Buongiorno e benvenuti a tutti. La nostra associazione vanta numerose sedi di Academic Center per la formazione in presenza alle quali ci si può eventualmente iscrivere. Parallelamente abbiamo creato la sezione Online Academy per rendere il Kung Fu e il Tai Chi Chuan tradizionali accessibili a ovunque e per chiunque, mantenendo naturalmente gli stili inalterati nella loro efficacia e di alto livello. Inoltre, i numerosi seminari e workshop tematici ai quali ci si può partecipare danno un ulteriore contributo alla comprensione dell'arte. L'integrazione di questi tre sistemi dona una conoscenza molto approfondita. Ora, quali sono i nostri maestri di riferimento? Personalmente pratico dalla fine del 1985 e sono quindi uno dei pionieri di queste arti in Europa. In effetti ho dedicato la mia intera vita a Kung Fu, Tai Chi Chuan e Qigong. Ho fondato la FIVUC, la federazione italiana di Wushu Kung Fu, molti molti anni fa. Sono discepolo del gran maestro Lin Dong Chu ed erede di nonna generazione del Talang della famiglia Lin, discepolo del gran maestro Tang Tung Wing, erede di decima generazione dello stile Ungar e di ventunesima generazione dello stile Chen Tai Chi Chuan, metodo Wanshan. Sono anche discepolo del gran maestro Liu Jin Ru ed erede di quinta generazione di Pan Gua Zhang e elevo diretto del gran maestro Quan Ai Jun e sesta generazione del raro stile Li Pai Tai Chi Chuan. La nostra associazione è riconosciuta da questi maestri e rappresenta questi grandi maestri cinesi e naturalmente insegniamo in varie nazioni. E veniamo finalmente ai corsi online che organizziamo. Attraverso questi corsi, di cui una parte è in questa pagina, proponiamo delle lezioni complete basate sull'acquisizione dei principi teorici studiando tutta la teoria e tutta la pratica degli stili scelti spiegati in dettaglio da me personalmente o dai nostri insegnanti qualificati. Non si tratta dei soliti video da collezionare, ma un percorso di studio vero e proprio, come fossero lezioni private. Le lezioni seguono il programma didattico che è anche in questa pagina, esattamente uguale a quello che si svolge in un centro accademico di formazione, insomma lo studio completo dello stile. La nostra associazione è strutturata in tre livelli, base, intermedia ed avanzata. Iscrivendosi ai nostri corsi, ci diviene a tutti gli effetti insegnanti informazione della nostra associazione. Al termine di ogni livello, viene sostenuto un esame attraverso l'invio di un video da parte del candidato dopo il quale potrà iscriversi al livello successivo. Al superamento del passaggio di qualifica, verrà rilasciato un attestato della nostra associazione che certificherà il proprio percorso. Tutte le lezioni, vi ricordo, sono sempre disponibili e in qualsiasi momento nella nostra area riservata e potrete rivederle fino a quando farete parte della nostra associazione. Inoltre, sono disponibili online i miei sei libri sulla teoria delle discipline che pratichiamo. Infine, si verrà inseriti in una chat su WhatsApp attraverso la quale interagire con noi. Potrete fare tutte le domande inerenti ai vari stili, alle quali risponderò personalmente. Quali obblighi ci sono nel far parte della nostra associazione? Sostanzialmente, non ci sono particolari obblighi e onerosi in questo, tranne di, primo, seguire costantemente e con passione i corsi a cui si è iscritti. Secondo, al termine di ogni livello inviare un proprio video per la valutazione. Terzo, partecipando ai nostri eventi occorrerà conformare la propria immagine indossando la maglietta e la divisa come insegnanti della nostra associazione. Quarto, per una comprensione reale degli stili praticati è necessario vedersi in persona e quindi è obbligatorio partecipare ad un evento all'anno con noi, a scelta tra un seminario da noi organizzato, una lezione privata con me o con un altro nostro insegnante qualificato, oppure, se siete insegnanti, potete voi stessi organizzare un seminario con me. Come iscriversi ai nostri consigli online, infine? È estremamente semplice. Compilate il form su questa pagina, allegando una foto tessera, e alla fine vi risponderemo al più presto. Quindi non mi rimane che augurarvi buona pratica, saremo felici di avervi come praticanti della nostra scuola.